La quotazione in borsa rappresenta per una PMI un'opportunità da diversi punti di vista. La prima motivazione per cui un'azienda dovrebbe considerare l'opportunità di quotarsi è quello di reperire capitale in forma di equiti per accelerare il proprio piano di sviluppo. La patrimonializzazione è un elemento che sta diventando sempre più importante per le PMI perché ovviamente assicura un maggiore livello di tutela nei confronti per esempio di eventuali shock dal punto di vista creditizio. Quindi assicurarsi dell'equity per poter accelerare il piano di sviluppo è un elemento che sta diventando sempre più importante e sempre più aziende vi stanno ricorrendo. Ma per le PMI la quotazione non rappresenta solo finanza, rappresenta anche l'opportunità di godere di una maggiore visibilità dovuto al fatto che si assoggettono in maniera volontaria a dei requisiti di trasparenza, a rispettare delle regole che le consentono quindi di potersi sviluppare, fare meglio la propria attività interfacciandosi magari con degli stakeholder, come possono essere clienti, fornitori e magari rispondendo a dei concorrenti di maggiore dimensione. Amitalia è uno strumento, è uno dei prodotti equiti di Borsa Italiana dedicato alle PMI che si suppone abbiano magari, siano meno strutturate, hanno anche meno esigenze di capitale rispetto alle società che si vanno a quotare sul mercato telematico azionario, le MTA. Quindi una PMI che decide di andare su AIM lo fa perché ha la possibilità di affrontare un processo di quotazione serio ma più flessibile e più veloce, quindi verosimilmente meno costoso.